Quali sono le novità rispetto ad oltre un mese fa quando c'era stato questo grido d'allarme lanciato dall'amministrazione comunale in merito a questo debito che l'amministrazione deve restituire non più in 30 anni ma in 10? C'è un'interlocuzione continua da parte del sindaco Carlo Masci che è andato anche a Roma con una pattuglia, se così la possiamo chiamare, di parlamentari circa due mesi fa. Una interlocuzione diretta del sottoscritto con l'Anci e l'IFEL perché ricordiamo questa non è una problematica che riguarda solamente Pescara, è una problematica che riguarda il sistema degli enti locali che ovviamente hanno subito questa sentenza della Corte Costituzionale che è fuori luogo rispetto alla realtà perché è come dire ad un operaio che prende uno stipendio e viene concesso dalla banca un mutuo a 30 anni, restituisce questo mutuo per acquistare la prima casa in 10 anni. Quindi è fuori dalla nostra portata, noi la stiamo gestendo, siamo fiduciosi per le nostre interlocuzioni che verrà risolto il problema, è ovvio che ci attendiamo come abbiamo più volte detto ai tecnici, perché ovviamente è anche un fatto tecnico questa attenzionare il governo, che abbiamo necessità di circa 12 milioni e mezzo di euro perché a tanto ammonta il residuo non restituito degli anni precedenti, quindi diciamo dalla sentenza in poi, più ovviamente l'anno 2022 che impatterebbe da circa un milione e cento a un milione e nove per due. Quindi ovviamente si triplicherebbe quello che è l'impatto del drenaggio di soldi di liquidità dal comune e farebbe venire meno molte attività. Ovviamente al governo ci sono persone ragionevoli che conoscono queste tematiche degli enti locali e quindi siamo fiduciosi che venga risolto. Abbiamo dei feedback in tal senso, aspettiamo che ci sia l'ufficialità, la cristallizzazione di questa situazione. Prima i comuni erano 21 in un plafondo di 22 milioni di euro, sono stati tirati fuori Napoli per un miliardo e duecento mila euro, Torino per un miliardo e cento e Reggio Calabria. Quindi si è abbassato nulla quota dei comuni che devono attingere a questo plafondo e quindi presumibilmente Pescara salirà come quota di assorbimento di questo plafondo. Quindi è una questione di carattere ragioneristico centrale che a giorni, spero a brevissimo, venga definita cristallizzata e ci venga comunicato in modo da mettere Pescara nel pieno della programmazione finanziaria.